Le persone per bene hanno nulla da temere. Tra le persone per bene che rispettano le regole e le leggi inserisco anche coloro i quali hanno avuto dei guai con la giustizia e che magari si sono ravveduti e che stanno seguendo un percorso di riabilitazione. Perché anche le persone pregiudicate possono chiedere e ottenere il reinserimento nel consenso civile, purché abbiano chiaramente i permessi, purché abbiano chiesto di accedere regolarmente e se siano messe in regola. Quanto prima sarà bandito il concorso, si aprirà un bando di gara per tutte e 74 le box, visto che negli ultimi anni addirittura per vari motivi che voi ben sapete non si era riuscito ad assegnarne 6. e sarà emanato un nuovo regolamento che va ad integrare il regolamento precedentemente in vigore, cercando di chiarire tutti gli aspetti dell'esercizio del mercato ortofrutticolo di Vittorio.